Ciao a tutti, bentornati nel nostro sito di commercio elettronico oggi voglio farti vedere la semplicità della ricerca del nostro motore guarda per esempio, se stai cercando un toner per una Samsung, basta che vai su questa mascherina rossa filtri la marca della stampante Samsung, ti vengono visualizzati tutti i modelli scegli il tuo modello, mettiamo che abbiamo una SCX 4003, andiamo a cercare dove sei, eccoti qua, selezioniamo e facciamo cerca prodotti, non c'è cosa più semplice visualizzi il prodotto, eccolo qua, hai la foto il prezzo IVA esclusa, il prezzo IVA inclusa inserisci nel carrello, ti registri e completi l'acquisto difficile trovarla a un prezzo più basso, ti ricordo che le spese di spedizione sono per tutta Italia 6,58€, per le isole 8,25€ ovviamente più IVA ciao a tutti e al prossimo video messaggio